Sottotitoli Ciao a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra un champagne a sinistra a sinistra allora ringraziamo la famiglia reggione per la disco di Milano del Palazzo grazie a mezzo passo non abbiamo utilizzare non siamo posso dato Gli uo! Si ha arrestato lava la sua save? Sì! Gli uo! Roppolobbolo , Delsin , Torro Robbo padre and 안에 da 3 2 uno Bahra muốn el Jarm gost. Buonasera alla tutti.